Ciao ragazzi, ciao ragazze, oggi vi presento il libro illustrato, il diario di Stick Dog, una storia bellissima disegnata a così così, di Tom Watson, per le rane interlinea. Capitolo 1, ok, non so disegnare. Questo è Stick Dog, il cane stecchino, non si chiama così perché gli piacciono stecchi, bastoncini o cose simili, anche se a pensarci bene in effetti i bastoncini di legno gli piacciono, e come? A tutti i cani piacciono o no? Insomma, che razza di cane è? Un cane a cui non piacciono i bastoncini? Se mai dovessi incontrare un animale che avesse l'aspetto di un cane e gliene offrissi uno e lui lo rifiutasse, ne concluderei che non è affatto un cane, non siete d'accordo? Potrei dire che è una sedia pelosa, qualcosa del genere. In ogni caso Stick Dog non si chiama così perché gli piacciono i bastoncini, ma perché io non so disegnare. Cioè, so disegnare solo che non sono molto bravo. Sapete disegnare un omino stecchino, vero? Un cerchio per la testa, un paio di stecchi per le braccia, un altro paio per le gambe, e tadan! Eccolo lì. La stessa cosa faccio io per i cani. Ecco perché il nostro protagonista si chiama così. Quindi questo è Stick Dog. Per scoprire tutte le avventure del nostro Stick Dog dovete leggere questo libro, Il diario di Stick Dog, una storia bellissima disegnata così così, di Tom Watson, edito dalle Rane Interlinea.